Ciao Sì, una manifestazione che abbiamo organizzato e abbiamo aperto a tutte le forze opposizioni come se anche i Cinque Stelle poi loro giustamente fanno le loro scelte vedremo oggi se saranno presenti o meno però non possiamo più andare avanti in questo modo non si possono più vedere i visi spenti delle persone e soprattutto le persone che sono rassegnate a questo sistema e siamo qua proprio per rilanciare che il fatto che il termine può cambiare il fatto che cerchiamo di dare un'alternativa concreta perché oggi quello che stiamo vivendo è una città che sta andando nel diagrato più totale Senti, ma questa canzone che sentiamo in sottofondo di chi è il testo? Guarda, questa canzone è opera di cioccoli dove non sono responsabile, non sono assolutamente responsabile io sono qua soprattutto per i cittadini che mi hanno dato fiducia di 2500 persone che ogni giorno rappresento in modo comunque difficile perché comunque si è contro un sistema abbastanza complesso e strutturato da anni e anni che il combattimento quotidianamente solo e esclusivamente per la fiducia che loro mi hanno dato e fino all'ultimo difenderò a spada dracca Grazie a tutti! Grazie a tutti!